Ciao a tutti ragazzi, sono Marco e sono qui con Vicky. Oggi io e lei vi mostreremo come fare un Musical.ly creativo. Abbiamo a disposizione un muro libero, non monturato. Voi potete usare un telo bianco, un lenzuolo usato, e far vedere la vostra creatività. Vi mostreremo pian piano, in vari step, come si può realizzare questo tipo di video in stop motion utilizzando Musical.ly. Innanzitutto vi servirà il vostro cellulare. Io ho usato questo mini cavalletto che ho trovato in casa. Con una base abbastanza ferma. Dopodiché non muovete mai l'inquadratura, deve stare stabile in modo che sembri un video fluido. Ma in realtà sono tanti i frame dove poi pian piano sommati verrà fuori un video completo. Come se fossero tante foto una dopo l'altra. Quindi ragazzi, mi raccomando, il tasto di rack del vostro telefono di Musical.ly va premuto velocissimo e tolto subito il dito per tanti i frame. In modo che pian piano si crea il movimento insieme al background che andremo a disegnare. Scegliete la musica della libreria di Musical.ly e niente, io ho preso questi colori qua che sono dei colori, delle bombolette spray. Ma potete usare anche dei pennarelli o della pittura, qualsiasi cosa che preferite per colorare. Vai, 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 girati, vai, vai, più giù, un braccio. Vai, 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 vai Sì, perché ogni cambio di musica cambiamo cose.